Sono molto contento, il mio cuore si sente molto stanto in questo momento però anche pienamente realizzato. Non mi aspettavo sicuramente una prestazione così forte questo weekend però wow, è stato davvero un fuoricampo questo weekend. Ieri hai parlato di Muhammad Ali dopo la top opposition ma oggi la tua vittoria è stata un uppercut, un gancio montante pensando al campionato, un pugno davvero molto forte. Sì, se pensiamo a uno come Muhammad Ali che faceva jab jab e poi diretto destro, come faceva? Jab jab destro e poi boom boom. È come una sequenza di colpi che fai durante il weekend e dopo il jab cerchi di tirare quello decisivo. Ma io ho sempre avuto delle immagini di Muhammad Ali nella mente, lui che sta davanti a George Foreman con quello sguardo fiero, quanto era alto, quanto era forte. Io mi sono sempre ispirato a lui e vorrei davvero essere grande come lui. È stato davvero molto importante quindi per il campionato. Sì, assolutamente. Dieci punti guadagnati dopo una grandissima prestazione.